sapete facendo un po di pulizia sono riuscito a trovare lui questo raccoglitore che contiene letteralmente 16 anni di collezione perché infatti da quando sono piccolissimo colleziono banconote da tutto il mondo e ce le ho tutte un po come i pokemon ce le ho tutte tranne questa taiwan taiwan è una fottutissima isola che sta a monculi e una sua banconota è introvabile però per il resto c'ho tutto ed è una collezione del quale vado davvero tanto fiero perché mi ha richiesto davvero tanti sforzi soprattutto a mettere le belle ordinate in questo modo perché se ne prendo una a caso ad esempio questa namibia la sua banconota la sua capitale la sua bandiera e dove si trova nel mondo questo puntino qua e questo per tutte quante e niente mi sento realizzato a guardarle per quanti treni ho preso per quanta pioggia ho visto tu sei il mio sole la mia vita tutto ciò che ottengo per quanto lontano io un giorno posso